Sindaco, questa è davvero una prima. Il Danilsen è l'unica tappa in Italia, quella di Foggia. Cosa rappresenta per la nostra città questa unicità? L'orgoglio è di far ritornare a certi livelli il jazz che parla foggiano. Questa sera sperimentiamo le nuove norme di sicurezza, le vediamo attorno alle sedie sistemate qui in Piazza Battisti. Questo è un ulteriore impegno perché far rispettare queste norme non è facile. Significa capacità tecnica, professionale ma anche impegno economico. Sappiamo che dobbiamo convivere con questo clima di terrore che sta vivendo l'Europa e quindi automaticamente scattano, soprattutto quando ci sono questi eventi, delle norme. Dobbiamo rispettarle, molte volte qualcuno le ritiene eccessive, incomprensibili, ma dobbiamo osservare questi provvedimenti. Pare che, così come mi dicono, le norme che abbiamo messo in campo, le misure che abbiamo messo in campo, sono adeguate rispetto alla norma e quindi questo ci conforta ed è sinonimo anche di professionalità.